Ciao, bentornati nel mio canale e benvenuti ai nuovi iscritti. Allora, io qualche giorno fa avevo fatto un video in cui ero stata presa di nuovo di mira dai bulli che poi sono stata costretta ad eliminare perché questi bulli hanno trovato il mio canale e mi hanno insultato proprio sotto al video e quindi sono stata costretta a bloccare i commenti perché se ci avete fatto caso io i commenti li posso, li devo approvare prima. Allora, per chi non lo sapesse, perché devo sempre tenere presente che c'è sempre chi non ha visto il video oppure chi arriva nel mio canale per la prima volta e cos'è così, vi dico brevemente cos'è successo. Ve lo riassumo, però poi c'è stato il seguito. Che praticamente io avevo chiesto delle informazioni su una crema e mi hanno insultato. mi hanno dato della mongola, della demente e cos'è così. Chiaramente quelli sono stati dei complimenti in confronto a cosa mi è stato detto dopo. perché sinceramente non mi va neanche di ripeterlo perché sono cose talmente offensive, talmente brutte che io non riesco a ripetere. È tutto perché ho chiesto un parere, un parere che non sapevo cos'era, diciamo così. Allora, praticamente questo era un gruppo di sole ragazze dove poter parlare di tutto. Non faccio nome del gruppo perché non è corretto. Non faccio nomi di chi mi ha insultato, a parte il fatto che non me li ricordo neanche tutti i nomi, quindi, beh, però non sta bene, poi è contro la legge. Però comunque le cose stanno più o meno così. Dopodiché io, c'è stato un seguito perché io chiaramente ho risposto a questi insulti, chiaramente. Che cosa hanno fatto le furbe? Hanno cancellato i loro insulti. Hanno modificato, diciamo, la conversazione per far sembrare che io li stavo insultando senza motivo e hanno pubblicato, cioè hanno reso quella cosa pubblica per far passare a me per cattiva. Quando invece io mi stavo soltanto difendendo, poi è successo, diciamo, un casino perché? Perché? Perché praticamente io stavo rispondendo agli insulti, dicendo non mi insultate. Avevo pubblicato altre cose, diciamo così, dove dicevo sinceramente mie ragioni perché veramente stavo prendendo una brutta piega. Una delle amministratrici mi fa che se non la finivo a pubblicare, cioè io, mi cacciava dal gruppo. Dopodiché io che cosa ho fatto? Ho detto, io sinceramente credevo che questo gruppo fosse fatto di persone intelligenti, ma evidentemente mi sbagliavo. Perché? Perché ben venga che un'amministratrice, se vede che il suo gruppo succedono che... le cose prendono una brutta piega, ben venga che interviene. Però deve intervenire con le persone giuste, no? Con me che io ho soltanto chiesto un'informazione e mi hanno soltanto dato addosso. Poi che cosa è successo? Che io per due giorni non volevo più mangiare, non dormivo più. Praticamente ero terrorizzata perché queste persone per due giorni mi hanno dato il tormento. mi scrivevano in privato, mi scrivevano anche in pubblico. Tra cui c'è stata una ragazza che ha detto un segreto, cioè io, molto ingenua, lo ammetto, mi sono confidata con queste ragazze perché lì, siccome si poteva parlare di tutto, praticamente io ho detto un segreto che mi riguarda. Una cosa che doveva rimanere soltanto quel gruppo. Poi è successo quel casino e questa ragazza cosa ha fatto? L'ha messo praticamente, ha commentato una cosa, perché avevo scritto tipo smettetela di importunarmi, cioè ma sul mio profilo non al gruppo, perché ormai me ne ero andata, però queste persone ce le avevo anche tra gli amici e tutto. e praticamente questa qua ha detto una cosa, un segreto, che non doveva dire su di me. Cioè come se io vengo da voi, vi dico un segreto e voi lo andate a ridire in giro. Non è bello. E io che cosa ho fatto? Per fortuna che quel giorno non sono andata a mangiare perché si dava il telefono. Me ne sono accorta appena in tempo. Infatti, appena mi è arrivata la notifica che lei aveva commentato, io ho scritto praticamente, cioè ho letto cosa aveva scritto, aveva detto una cosa che non doveva dire, cioè una cosa che non dovevano sapere le altre persone. e praticamente io cosa ho fatto? Ho cancellato il commento. Perché lì sopra, praticamente io ho amici di tutte le età. E mettiamola così, quello che questa ragazza ha scritto non c'è niente di male se lo va a dire in un gruppo di persone giovani, ma se lo dice dove mettiamo una persona che ha 80 anni, lo va a leggere, non sta bene perché non penso che le persone di una certa età capirebbero quello che quella ragazza ha scritto. Cioè, generazioni diverse, come devo dire. Un'altra ragazza ha commentato, però prima avevo scritto io dicendo smettetela di pubblicare cose, e questa qua ha commentato dicendo, dicendo, eh ma tu però tieni soltanto i commenti che ti fanno comodo. Non è così, perché se io dico un segreto a una persona, che può essere un segreto stupido, tipo, sai, oggi ho mangiato la Nutella, tu non lo vai a ridire in giro, perché non si fa, è maleducazione. Alla fine, morale della favola, ho bloccato tutte e due, però dopo ho notato che, sinceramente, piano piano, le ragazze di quel gruppo, anche quelle che io, sinceramente, non mi aspettavo, perché non mi hanno fatto niente, io non ho fatto niente a loro, mi hanno cominciato a tolire dagli amici o a bloccarmi. Come mi ha detto una ragazza, dove adesso mi ha inserita in un altro gruppo di ragazze, che però non ha nulla a che vedere col precedente, mi ha detto, ma certo però tu, non è che loro ti danno da mangiare, come per dire, non ti importa di loro, infatti parecchie persone mi hanno difesa su questo fatto. Poi, al di là di quello, io come andavo che dovevo, diciamo, tra virgolette bloccare delle ragazze, che mi davano addosso, che mi continuavano ad andare addosso, senza motivo ad insultare per due giorni, vi lascio immaginare l'inferno che ho dovuto vivere io per due giorni, ne arrivavano altre, perché io praticamente, siccome sul mio profilo ho circa mille amici, io praticamente cosa ho fatto? Ho detto, ma mi devo mettere qua di impegno, devo cancellare tutte le ragazze che fanno parte di quel gruppo, me ne tengo giusto due o tre, che sono proprio quelle che secondo me non mi faranno mai niente, infatti queste che ho deciso di tenere, proprio che ho deciso proprio di tenere, mi hanno soltanto difesa, tutto qui, non hanno fatto nulla che non va, però praticamente io, avendo più di mille amici, non sempre riesco a inquadrare quella persona come l'ho conosciuta, quindi certe volte, in realtà credevo di averle eliminate tutte, tutte quelle diciamo, tra virgolette cattive, perfide, non so come definirle, però non riuscivo mai ad eliminarle tutte quante, perché avendo tutti questi amici, come si fa? Comunque adesso non mi stanno dando più fastidio, e ho deciso di fare questo video, ah, praticamente dimenticavo di dirvi, che praticamente io sono venuta a sapere, dopo che sono uscita fuori da questa situazione di bullismo, anche se è virtuale, praticamente sono venuta a sapere che queste ragazze, sono ragazze praticamente, che creano problemi, che non so quanti problemi hanno creato, non soltanto a me, ma anche ad altre persone, anche ad altre persone, che è meglio stare alla larga, perché sono delle pettegole, e io infatti ho intenzione di starci alla larga, e se qualcuna mi insulterà ancora, io prendo e blocco, blocco, cioè io ormai ho deciso di rifare questo video, molto probabilmente troverò degli insulti, perché qualcuna si ricorderà di quello che è successo giorni fa, troverà il mio canale e mi insulterà qua sotto, io ci scommetto, però io prendo e blocco e basta, cioè alla fine loro non mi danno da mangiare, come ha detto qualcuno, però quello che è successo, che mi serva di lezione, perché non dovevo mai accettare di far parte di un gruppo, se io non sapevo prima chi ci fosse, e quindi alla fine è andata diciamo così, poi al di là di quello diciamo che queste ragazze sinceramente mi fanno pena, a parte che c'è stata qualcuna che si è pure permessa di dire, ma non ti abbiamo mica offeso, certo dire mongola, dire deficiente, demente, quello che è, una persona non è un'offesa, poi, poi, parecchi di loro si sono offese per quello che ho scritto, dicendo io credevo che fosse un gruppo di ragazzi intelligenti, ma mi sbagliavo, ma giustamente dico, ma che c'avete la cosa di paglia, io non ce l'ho con tutto il gruppo, ma io ce l'ho con chi mi ha offese, è chiaro che chi non mi ha fatto niente, e senti, ma non è che posso ricordarmi chi mi ha fatto qualcosa e chi no, io ho scritto così, poi al di là di quello, che comunque dare delle poche intelligenti, non ha niente a che vedere, cioè, non è niente in confronto a quello che loro hanno detto a me, perché loro hanno detto molto peggio, molto peggio, poi, al di là di quello, diciamo, io, dopo questa esperienza, se qualcuno mi fa richiesto di amicizia, io prima di accettare controllo sempre, perché, non ci voglio proprio ripassare, perché per me è stato terribile, e poi queste ragazze mi fanno pena, anche perché parecchi di loro sono pure mamme, mamme, e poi ci credo che escono fuori figli bulli, perché riprendono tutto dai genitori, se i genitori trattano così una ragazza, che possesse io un'altra, cioè, ma voglio di che educazione li dà ai tuoi figli, lasciamo aperte, cioè, mi fanno proprio pena, ho voluto fare questo video, perché io già l'avevo fatto, quando ero arrabbiata giorni fa, però l'ho eliminato, però alla fine ho deciso di farne uno, perché, dopo di allora c'è stato pure un seguito, invece di fare due video, in cui vi dicevo, la stessa cosa in pratica, ho deciso di farne uno, quindi, ciao ragazzi, il mio consiglio è quello che dovete stare attenti, atentro, i suoi figli, e dei bambini, e poi, toretto, e, quindi, e,